Desideriamo farvi arrivare, a nome dello staff del Dulac du Parkland Resort in generale, di Paolino in particolare, gli auguri più veri, genuini, perché possiate trascorrere i prossimi giorni di festività in armonia e felicità. E con l'occasione ci teniamo pure a ringraziarvi per la fiducia e la stima che avete riposto su di noi nel corso di tutto l'anno. Grazie, grazie ancora e tanti, tanti auguri! Grazie a tutti!